Buongiorno a tutti, sono Roberto Pastore, uno dei titolari della Vetrodomus. La Vetrodomus nasce negli anni 60, fondata da mio padre con altri soci. L'azienda si è sviluppata nel corso di questi anni, passando da un'attività commerciale a un'attività attuale di pura trasformazione, andando negli anni ad affacciarsi a una clientela sempre più importante come i facciatisti di primaria importanza a livello europeo. Il rapporto nasce tanti anni addietro, noi ci siamo sempre fidati del rapporto che si è instaurato tra me e post vendita di CMS, che ci ha sempre messo a disposizione una certa celerità per quanto concerne gli eventuali interventi tecnici. Quindi abbiamo deciso per la terza volta di scegliere CMS in quanto ci è stato promesso una macchina completamente nuova, completamente riprogettata, una macchina compatta in quanto noi avevamo degli spazi molto molto limitati e questo ci ha consentito di poter effettuare questa scelta che si sta rilevando vincente, ci sta dando delle soddisfazioni che ci aspettavamo in quanto è una macchina che ha una produttività molto molto elevata e soprattutto per il discorso carico-scarico ci sta dando delle soddisfazioni con quel robot carico-scarico e con gli stand di carta che già conoscevamo che sono un ottimo macchinario per quanto concerne la separazione tra una lastra e l'altra. Grazie a tutti!